E noi così poi pigliamo sto trenino, poi arriviamo, poi certamente non vediamo più nessuno, la stazione era vuota e noi ci guardavamo, che è successo, che è successo? E in questo momento per grossa fortuna sopra c'è la strada, c'è ancora proprio per il metro la strada, arrivò un autocarro e due soldati italiani in divisa ci videro, io ce l'ho ancora qua, diceva, signor Tenente, ma che fate là? C'è pericolo, venite via, venite via perché c'è pericolo dei bombardamenti. E noi non sapevamo che fare, venite, venite su, venite su. E allora noi pigliamo il nostro bagaglio e salimmo su perché c'è una stradetta che dalla stazione andava su questa strada che poi andava al paese. Noi che sapevamo niente, eravamo appena arrivati in zona di operazione, quindi salimmo sul loro autocarro e ci portarono nel loro accampamento. I nostri soldati avevano un accampamento vicino a un grosso deposito, un accampamento fatto con le centine di un autocarro dismesso. E loro avevano la loro tenda là sotto e con gli autocarri e facevano il lavoro di trasporto, di munizioni, tutto quello che veniva ordinato al deposito. Loro però stavano fuori dal deposito, stavano fuori dal deposito, però facevano lavoro di trasporto. E così passavamo la nottata e la mattina andammo, prendemmo il treno, io scelsi a Usieri perché è destinato al comando della divisione che avevo io, del mio reparto. Mentre il mio compagno andò un po' più avanti dove c'era l'officina, l'officina dei carri armati, l'officina militare.